E siamo live, siamo live, eccoci qua, scusate il ritardo, vedevo già che su Telegram tutti scrivevano come mai non mi collegavo, eccoci qua, scusate il ritardo, ho avuto un mini problema, perché se no, ciao Ale, ciao, ecco, ciao Lucrezza, ho avuto un mini problema con la descrizione, questa volta il microfono non c'entra niente, la mia ragazza sta smontando casa, non si capisce perché, inizio a farlo solo quando io vado live, ma questo è un problema a parte, ciao a tutti, ciao a tutti, oggi puntata assolutamente imperdibile perché andremo a capire un pochettino cosa è successo il 26 agosto secondo l'accusa e cercheremo di mettere insieme tutta la timeline, no, quindi tutta la linea temporale ufficiale e poi appunto ovviamente la criticheremo quando si vada a criticare non. e cercheremo appunto di capire cosa è successo dato, anzi, dati alcuni elementi certi che abbiamo. Ciao Lucia, è lei che fa casino e che mi saluta, ma in verità adesso forse si è acquietata. Ciao Yuri, ciao Alessio, ciao Lucrezza, ciao a tutti, aspetto qualche secondo ancora, anzi qualche minuto, intanto vi ricordo sempre di lasciare un like e un commento sul post di Instagram che esce, ciao Francesco, quindi che uscirà in questi minuti dove Zap sta febbrilmente lavorando, anzi no, o forse sì, non lo so. Comunque quando uscirà il post vi prego appunto di lasciare un like e un commento, in più vi ricordo sempre di lasciarci una recensione su Apple Podcast, di iscrivervi al canale Telegram che è un, dove appunto proseguiamo, poi siccome oggi facciamo una live presto, sono sicuro che per tutta la sera poi parleremo delle, come si dice, di quello che ho detto per tutta la, appunto per tutta la serata, quindi sarà, iscrivetevi al canale Telegram che comunque ormai ha 91 iscritti, quindi tra un po' arriveremo a 100 e festeggeremo in qualche modo, ciao Ola, e vi prego poi appunto di ascoltare anche gli altri podcast, no, domani ci sarà una live su Dipen Giallo dove appunto avremo delle cose molto molto importanti da comunicarvi, quindi ascoltarlo e supportare anche Dipen Scienza, e forse tra un po' arriverà un nuovo podcast, adesso non voglio aggiungere altro, ma vabbè, forse avete già capito di cosa sto parlando, comunque, forse arriverà, forse no. Detto questo io inizierei anche se mancano, mancano ancora tante persone, ma tanto avranno poi modo di recuperare. Allora, ieri ci siamo, abbiamo introdotto un po' il movente di questo, di questo giallo, quindi del rapporto complicato tra Sars Cazzi, Sabrina Misseri e Ivano Russo, oggi invece andiamo ad analizzare, come avrete letto dal titolo, un giorno specifico, cioè il giorno del rapimento, anzi in realtà dell'omicidio di Sara. Uno dice, vabbè, ovvio, no, perché non faremo una ricostruzione dell'omicidio, queste le faremo poi settimana prossima o quella dopo ancora, ma cercheremo di capire come l'accusa, come quindi tutta la tesi accusatoria, prova a ricostruire i movimenti di Sara, quel maledetto Giorg. E come in realtà ci siano dei piccoli problemi, piccoli o no, poi ovviamente sarà anche a voi decidere quanto sono piccoli, e come in realtà la versione ufficiale, fino all'omicidio, sia più che discreta e molto approfondita, ma che secondo me, e poi su questo parleremo settimana prossima, inizia a inciampare un po' dopo. Ciao Pietro, finalmente c'è Pietro, grande, era un po' che non lo vedevo live, quindi sono contentissimo di vederlo, ciao Pietro, grandissimo, nostro fan numero uno, credo il primo in assoluto, oltre che davvero, forse il primo che ci ha commentato, che ci ha supportato. Ciao Pietro, un piacere averti qui. Allora, cosa succede? Faccio una piccola parentesi, non ho neanche iniziato a farciare già la parentesi, Faccio una piccola parentesi, sto leggendo, come sapete, la sentenza. La sentenza è molto prolissa, è molto lunga, per dire un concetto ci mette 30 pagine, quindi è davvero, come si può dire, ha l'apparenza, sì, ma a parte la parte del, a parte la parte, a parte la sezione del movente, che è quella che abbiamo, ciao China, a parte la movente, la, eh, saluto e poi perdo il filo, a parte la sezione sul movente che, su cui abbiamo fatto la puntata ieri, che secondo me è scritta bene, nel senso che, cioè, è dettagliata, ci sono riportati gli sms, e tutto quanto, le altre parti che sto leggendo sono, ciao Francesca, sono un pochettino più, non lo so, parolisse, ma giusto per, ti ubriacano di parole, ecco. Quando in realtà poi di sostanza ce n'è poca, eh, almeno da un punto di vista accusatorio. Quindi, questo per dire che in realtà sono sempre un po' dubbioso, cioè, mentre le sentenze, la sentenza di Bossetti, che era sbrodolona solo sul DNA, perché in realtà aveva solo quello, mentre poi sugli altri, sugli altri, sugli altri indizi era molto sintetica, qua invece su ogni indizio ci perdiamo in fiumi di parole. Fiumi di parole che dopo un po' confondono, no? Perché dice, ma sta dicendo sempre le stesse cose o mi sta aggiungendo? E soprattutto che nasconde poi le informazioni che ci interessano dentro, appunto, dei paragrafi che sembrano davvero superflui, invece poi magari contengono delle informazioni fondamentali. Detto questo, detto questo, partiamo, partiamo da una domanda che mi è stata posta ieri sera, anzi da un dibattito, che non è una domanda in realtà, da un dibattito che c'è stato ieri sera, adesso non vado a recuperare tutti i messaggi, perché ne sono arrivati tanti oggi, quindi sono un po' indietro, ma ieri sera, sul canale Telegram, quindi invito a seguirci anche sul canale Telegram, è nata una discussione su, nata da una mia domanda della scorsa puntata, cioè se Sara aveva litigato così tanto con, come sostiene l'accusa, con Sabrina, perché si è recata l'indomani mattina, quindi aveva litigato il 25 agosto sera, perché il 26 mattina si reca a, come si dice, a casa dei Misseria, a casa di Sabrina, sul gruppo Telegram, si è andata una serie di risposte, su cui io non ero particolarmente d'accordo, non che avevano sbagliato ovviamente, o che io abbia la risposta giusta, semplicemente non ero d'accordo, ma perché mi ricordavo di aver letto una cosa in sentenza, e questa puntata che adesso faremo, anzi che adesso farò, ma che appunto voi siete parte di questa, di questa puntata esattamente quanto me, la sto preparando, ci ho messo due o tre giorni a prepararla, quindi abbastanza, ci saranno un bel po' di dati, numeri, orari, cose, nomi, quindi non sarà facile ascoltarla, ma potete comunque poi, scusate, non sarà facile seguirla, ma potrete tranquillamente poi, riascoltarla in modo più sereno, finita la live, quindi vi prego di ascoltarmi bene. Allora, la domanda è, perché Sara è andata a casa di Sabrina la mattina dopo? La risposta che ho avuto sul canale Telegram, da una serie di utenti, è stata, siccome Sara era solita aiutare Sabrina sempre, quando Sabrina appunto faceva l'estetista in nero, a casa sua, quella mattina c'erano i clienti, e quindi è andata ad aiutarla, anche se non aveva voglia. No, in realtà no, e no, ce lo dice l'accusa stessa, che avrebbe in realtà tutto l'interesse a suffragare quest'ipotesi, e vi spiego perché no. Noi sappiamo cos'è avvenuto quella mattina, almeno all'inizio, dalla super testimone, Anna Pisanò. Oggi non commenterò particolarmente le parole della Pisanò, sto preparando una puntata che ci sarà settimana prossima, sui testimoni e su quanto io credo a tutti questi testimoni, perché come mai prima d'ora in questo processo abbiamo dei testimoni che sembra magnificamente che fossero a conoscenza di praticamente tutto. Io su questa cosa sono un po' dubbioso. Ma la Pisanò in questo caso ci dimostra, attraverso sms, attraverso una descrizione che trova conferme anche da altre parti, quello che è avvenuto quella mattina. Quindi non l'omicidio, ma la mattina. Siamo al 26 agosto 2010, Sara si sveglia intorno alle otto e mezza, e si reca a casa di, nella Misseri, intorno alle nove e dieci. Questo ce lo dice la Pisanò. Come fa la Pisanò a saperlo? La Pisanò verso le sette del mattino, un po' più tardi, sette e venti, si scambia una serie di messaggi con Sabrina. Messaggi che appunto servono a mettersi d'accordo per un trattamento estetico. Sappiamo, perché ciò dice la Pisanò, che arriva, ed è confermato dalla Misseri, che Anna Pisanò arriva a casa Misseri tra le sette e cinquantadue e le sette e cinquantacinque. Quindi, in quei, comunque, cinque minuti prima delle otto del mattino. Ma in quel momento Sara ancora sta dormendo. Quindi la tesi che, siccome c'è una cliente, Sara andava ad aiutarla. Non è una tesi che sta in piedi, perché la cliente arriva un'ora prima. Oltretutto, sono andato a controllare, non c'è scritto da nessuna parte, che Sara aiutava sempre o costantemente Sabrina. Gli inquirenti hanno dato un'altra spiegazione al perché è andato lì, ma lo vediamo dopo. Andiamo con l'ordine. Quindi, non era assolutamente pianificato questo appuntamento, quindi Sara non poteva sapere che c'era la Pisanò, e quindi probabilmente non sapeva neanche che c'era un cliente. Detto questo, Sara si alza e fa una colazione veloce alle 9.10, secondo la Pisanò, si reca, appunto, a casa della Misseri. La Pisanò dà una descrizione molto precisa, cioè che Sara è vestita completamente di nero, con i capelli biondi legati, non pettinati, e dà una descrizione dello stato d'animo di Sara che sarà fondamentale, secondo l'accusa, e sarà uno dei pilastri accusatori. Cioè, la Pisanò dice che Sara in quel momento è triste, giù di morale, non saluta, è sul divano, ha col cellulare in mano. Sabrina, invece, e tutti gli altri testimoni, in realtà, di quella giornata, compreso i genitori di Sara e gli zii di Sara, diranno che Sara era normale, era una ragazzina serena, cioè non aveva niente di strano. Invece, l'unica che dirà, perché l'ha vista bene, ci ho anche parlato un attimo, sarà la Pisanò che dirà che invece Sara era molto triste, un po' sconvolta, sembrava che avesse pianto. In realtà, quello che ci dice la Pisanò è corroborato da quello che Sara aveva scritto, che vi ho letto ieri sera, sul suo diario, cioè che la sera prima aveva litigato con Sabrina, e che ci si faceva sedi per i cocoli da Ivano e tutto quello che vi ho detto ieri sera. La Pisanò se ne va verso le 9 e 20, quindi sta circa 10 minuti, 9 e 25. Alle 9 e mezza arriva Giovanna Don Vito, che è un'altra donna, che deve fare un trattamento molto, molto veloce, dura 5 minuti, vede Sara, quindi conferma la presenza di Sara, e si ricorda che era vestita in modo scuro, quindi non è molto precisa, perché la Pisanò parla anche di infradito e compagnia, mentre diceva vestita in modo scuro, e mi sembrava normale, cioè non mi sembrava né triste né felice. Se ne va alle 9 e 35, ma ritorna dopo 10 minuti, perché si accorta che... come si dice? Perché si accorta che Sabrina aveva fatto un piccolo sbaglio estetico, e quindi torna e se lo fa sistemare. Quando torna nota che Sabrina è... si è vestita, cioè prima aveva un abito estivo da casa linea, diciamo un abito normale, come si sta in casa, mentre poi si era vestita per uscire. Sabrina dirà appunto che deve riuscire a fare delle commissioni, commissioni che in realtà non farà Sabrina, ma farà Sara. Cioè Sara si offrirà e per due volte andrà a fare delle commissioni, la prima la fa intorno alle 9 e qualcosa, la seconda che è quella che appunto ci interessa di Giovanna Don Vito, che appunto questa testimone vede Sara uscire e andare a fare le commissioni, Sara alle 9 e 35 va a comprare una crema, passando prima dei genitori a prendere i soldi che poi in seguito gli darà Sabrina al costo di 14 euro. Questo verrà confermato dalla titolare Pamela Nigro del negozio Eurocasa, che era poi lì di fianco, molto vicino all'abitazione in via Grazia dell'Edda dei misseri. Quindi sappiamo che Sara quella mattina va a fare un paio di commissioni per conto di Sabrina. La difesa ci spiega che se uno è arrabbiato, già non ci sarebbe, o hanno litigato furiosamente, già non sarebbe andato a casa dei misseri in prima battuta, ma anche se fosse andato, di sicuro non sarebbe andato, ci dice la difesa, a fare delle commissioni per conto di Sabrina. Invece l'accusa dice che Sara era triste, infelice, perché era di con Sabrina, perché c'era Sabrina, e quindi l'occasione di andare a fare delle piccole commissioni le facevano tornare il sorriso, per questo poi gli zii l'hanno vista allegra, perché almeno si allontanava da Sabrina. A me questa tesi non è che mi piace più di tanto, perché comunque se stare con Sabrina la faceva piangere bastava non starci. Sabrina, in un secondo momento, ha poi detto che quella mattina c'era stato un altro piccolo bisticcio, molto leggero, molto più leggero della volta prima, perché Sara, appena arrivata a casa, aveva chiesto se aveva risentito, a Sabrina ovviamente, se aveva risentito Ivano, e se avevano fatto pace, era nata una mini, mini, mini discussione. Ci sono due ipotesi fondamentali dell'accusa per cui, appunto, che rispondono alla domanda del perché Sara va a casa di Sabrina e a casa dei misseri la mattina. La prima ipotesi è per evitare le faccine domestiche, quello che vi ho detto ieri. No, sappiamo che a casa dei, della famiglia Scazzi si stava, c'era la cucina, la casa era un po' un cantiere, perché c'era la cucina che era in completo rifacimento e quindi c'era molto da pulire, da mettere a posto e Sara che era un po' viziatella e che non aveva molto più voglia appunto di fare le faccende domestiche, va a casa di Sabrina in modo da poter cazzeggiare, passatemi il termine. Seconda cosa, non voleva perdere l'occasione di andare al mare perché come sapete la sera prima nonostante il litigio e tutto c'era rimasto un piano cioè che nel pomeriggio se la Spagnoletti avesse avuto le energie dopo una giornata lavorativa sarebbero dovuti andare al mare quindi non andando a casa di Sabrina quella mattina poteva rischiare secondo l'accusa di perdersi la gita al mare che tanto voleva fare. Verso le 12 alle 12.30 torna a casa qua abbiamo un buco di mezz'ora in realtà conta poco questo mezz'ora perché tanto poi Sara viene vista e sappiamo che non è andata a nessuna parte diciamo che circa alle 12.20 più o meno torna a casa e dice alla mamma probabilmente vado al mare devo aspettare che Sabrina me lo confermi. La madre poi dice concetta dirà al padre di Sara con cui comunque era separata ma vivevano ancora e in quel momento era lì diceva di andare a comprare un po' di carne un po' di verdura inizialmente la madre parla di un orario completamente sbagliato adesso vi spiego anche perché e Sara che capisce che se fosse rimasta in casa in quel momento avrebbe dovuto svolgere delle piccole mansioni si offre di andare col papà a fare la spesa vanno a comprare un po' di carne e un po' di come si chiama e un po' di verdura e sappiamo con certezza che alle 12.43 c'è l'ultimo scontrino tra l'altro faccio dei complimenti alla vetrana perché in questo caso si dicono sempre che al sud non facciano gli scontrini invece in questo caso ci sono più scontrini ci sono solo scontrini diciamo che l'unica prova di documentare sono tutti i scontrini quindi faccio complimenti ci spende 8 ore 30 di verdura mi sembra alle 12.43 e il fruttivendolo è lontano circa 5 minuti da casa quindi intorno alle 12.50 alle 12.48 alle 12.50 fanno ritorno a casa inizialmente la madre dice 13.20 parla del luna ai 20 quindi quasi mezz'ora dopo viene smentita dallo scontrino e dal fatto che a luna il negozio avrebbe chiuso quindi non sarebbe stato possibile qui poi nasce tutto qui c'è un'ora adesso vi devo spiegare questa cosa è abbastanza diciamo delicato perché è il punto poi più sensibile in inglese dicono sensitive cioè il punto più secondo me dove si gioca la soluzione alla colpevolezza cioè l'alibi o il non alibi di Sabrina se diamo per scontato io su questo sono tendenzialmente d'accordo perché c'è uno scontrino delle 12.43 quindi diciamo che entro le 12.50 Sara e il padre sono in casa a questo punto c'è il grossissimo dibattito tra accusa e difesa su quando poi Sara riesce per andare a casa di sé è fondamentale questa cosa perché all'inizio almeno finché non viene ritrovato il corp cioè per mesi si suppone che dai tabulati telefonici di cui adesso parliamo si suppone che Sara esca di casa azione assolutamente confermata dalla famiglia tranne che dalla badante perché nella famiglia c'era questo il padre il nonno di Sara che era molto malato e quindi c'è una badante straniera che era a casa con loro che confermava un'uscita di Sara ben dopo le 14-20 se Sara fosse effettivamente uscita ben dopo le 14-20 non sarebbe stato in alcun modo possibile per Sabrina e la madre compiere l'omicidio ok quindi ci sarebbe stato un alibi perfetto ma l'accusa attraverso una serie di procedimenti che adesso andremo a discutere perché secondo me alcuni sono ai limiti del non della legalità perché sono assolutamente legali però sono ai minimi della scusate al limite della come si può dire dell'andare a modificare la testimonianza appunto di un testimone no? perché adesso poi vi spiego spostano l'uscita tra le 13-45 e le 13-50 vi spiego prima di andare esatto la brande romena Maria Pantirsi dice esattamente lei che è una dei testimoni chiavi della chiave dell'accusa su cui io ho sinceramente pochissimi dubbi nel senso che mi sembra siccome da è una delle poche di quella famiglia perché rispetto alla madre e al padre è una delle poche che dà delle risposte abbastanza coerenti e che cambia idea ma di 5 minuti e quindi voglio dire ci sta mentre gli altri cambiano idea di 50-1 ora quindi sì io anche io tendo a che vedere Maria Pantir però vi spiego un attimo cosa succede alle 14 e 18 e 17 secondi Sara riceve un sms da Francesca che è una delle sue migliori amiche sms adesso non ce l'ho sotto mano il testo dell'sms ma conta fino a un certo punto sms che però è molto importante è molto importante perché dice tipo questo è il numero di questa persona non darlo a nessuno bla 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 una roba così Sara non risponde il che è abbastanza strano per Sara ci deve poi Francesca in dibattimento perché Sara tende sempre a rispondere subito ok aveva sempre il cellulare in mano alle 14 23 e 11 secondi Sara riceve una chiamata da Francesca che evidentemente aveva bisogno di una risposta di Sara a cui comunque non ci sarà una risposta per l'accusa Sara era già morta alle 14 18 o comunque se non era morta era impossibilitata rispondere perché era già stata aggredita secondo l'accusa invece alle 14 18 scusate secondo la difesa alle 14 18 Sara è ancora in casa perché e adesso entriamo nel cuore pulsante della situazione quando Sara torna a casa dopo essere stata da Sabrina Misseri dice alla madre probabilmente andremo al mare io Sabrina con gli amici Sabrina deve mandarmi un sms di conferma stessa cosa che dice Sabrina ok e questo sms effettivamente si trova cioè si trova esiste il problema è che questo sms avviene ad un orario che coincide perfettamente con l'alibi di Sabrina ma che non coincide minimamente con l'uscita secondo l'accusa ovviamente di Sara vi spiego alle 14 23 e 11 secondi come vi ho già detto chiamata di Francesca al telefono di Sara non c'è nessuna risposta quindi secondo l'accusa Sara è già morta in questo momento alle 14 23 e 31 secondi c'è un sms di Maria Angela Spagnoletti l'amica che aveva la macchina quella che finiva di lavorare che poi doveva dare conferma della gita al mare perché lei la sorella Alessandra Spagnoletti sarebbe andata a prendere Sabrina questo sms delle 14 23 e 31 secondi dice il tempo di mettere il costume è vengo Sabrina risponde subito perché risponde alle 14 24 e 03 secondi quindi 28 secondi dopo risponde avviso Sara punto di domanda risposta immediata della Spagnoletti alle 14 24 e 26 secondi quindi 23 secondi dopo ok tempo di cambiare conversazione e Sabrina manda un messaggio a Sara alle 14 25 08 secondi che è arrivato 3 secondi dopo quindi 14 25 e 11 secondi metti il costume veloce e vieni Sara non risponde alle 14 28 e 13 secondi quindi 3 minuti dopo 3 minuti 5 secondi dopo Sabrina manda un altro messaggio a Sara che arriva alle 14 28 17 secondi quindi 4 secondi dopo l'invio così tu hai letto punto di domanda e Sara si rifaviva secondo la difesa e secondo l'accusa poi vi spiego qual è la lettura che ha dato l'accusa Sara fa uno squillo di cellulare nei confronti di Sabrina lo squillo è il messaggio in codice ma neanche tanto in codice perché lo facevano tutti di quando non ho soldi per risponderti ma ti faccio uno squillo quindi era semplicemente un sì ho letto sto arrivando questo alle 14 28 26 secondi andiamo avanti con la sequenza di messaggi che capisco non sia divertentissimo ma è fondamentale alle 14 28 40 quindi siamo giusto per farci capire Sara fa manda fa uno squillo a Sabrina come conferma quindi Sara sostanzialmente sta uscendo da casa si sta preparando velocemente alle 14 28 e 40 secondi Sabrina manda un messaggio a Maria Angela Spagnoletti dicendo sto tentando in bagno con una faccina nel senso che stava cercando di fare la cacca adesso non entriamo nei particolari di cosa stava facendo in bagno Sabrina alle 14 31 44 secondi c'è uno scambio di messaggi fino alle 14 35 tra Angela Cimino che è una cliente e Sabrina Misseri alle 14 39 27 secondi Sabrina manda un messaggio a Maria Angela con scritto pronta e alle 14 42 si incontrano Maria Angela Spagnoletti e Sabrina e su questo incontro poi dovremmo per forza di cose parlare magari parliamo oggi si incontrano fuori da casa Misseri e appunto Sabrina chiede a Maria Angela e ad Alessandra Spagnoletti se hanno visto Sara loro rispondono di no e inizia parte questa chiamata parte la prima chiamata che va a vuoto e poi c'è la seconda chiamata alle 14 44 e 24 secondi dove l'utenza risulta irraggiungibile cioè non si riesce a come si dice il cellulare risulta spento ok vi ho fatto tutta sta spilza di tabulati telefonici vari ma adesso vi spiego le due versioni di difesa e accusa parlo parlo con la versione ufficiale delle sentenze quindi con la con la versione che ha tra virgolette trionfato quindi che ha causato l'ergastolo di Sabrina quindi la versione dell'accusa l'accusa dice che adesso io non sto facendo la ricostruzione dell'omicidio sto facendo soltanto la linea temporale quella vi ripeto la faremo settimana prossima Sara torna alle 12 e 12.48 in casa va 10 minuti in camera questo lo confermano tutti poi fa una serie di azioni adesso io poi vi critico un attimo il modus operandi dell'accusa però vi dico le azioni che fa sta 10 minuti in camera dice ai genitori che è arrivato l'SMS che deve andare al mare anche se l'SMS non è arrivato però entambi tutti e tre ci dicono che usa questa scusa per uscire di casa l'accusa dice sempre vuole uscire di casa il prima possibile per evitare che di fare lavori domestici quindi sta in camera 10 minuti esce dice che è arrivato l'SMS si va a preparare si non mangia con i genitori che stavano cucinando un piatto di pasta si fa un cordon bleu al volo cottura 6 minuti questo viene riportato perché è del cordon bleu dell'aia perché è fondamentale questa cosa cottura 6 minuti se lo mangia in piedi anche questo dettaglio assolutamente fondamentale perché l'accusa dice che la fretta che aveva Sara di uscire chiede alla mamma dove sono i teli da mare che non trova la mamma gli ha messi in un sacchetto su un ripiano della cantina anche questo dettaglio vitale Sara va in cantina tempo stimato tra 4 minuti torna su mette via tutta la roba e si appresta ad andare intanto prima si era cambiata quindi si era messa un costume nero con una maglietta e un pantaloncino rosa e si avvia verso casa di Sabrina su questi su come si dice sui fatti non ci sono grosse discussioni c'è una discussione sui tempi cioè l'accusa dice che tutto questo avviene che è possibile avviene entro le 13.45 e Sara esce di casa tra le 13.45 e le 13.50 essendo quindi a casa dei misseri alle 14 prima delle 14 il problema è che il problema è che o meglio l'accusa scusatemi la difesa dice ma perché Sara sarebbe dovuta andare a casa di Sabrina quando c'era l'accordo di andare solo cioè che sarebbe andata al mare solo se ci fosse stata la conferma di Sabrina cioè il messaggio che effettivamente poi è stato mandato di conferma cioè perché ci va a mezza la prima va soltanto per evitare le no le piccole i piccoli lavoretti domestici cioè lavari piatti queste cose qua oppure c'è andata effettivamente dopo perché la la difesa dice che si ci sono state tutte queste la difesa di Sabrina Misseri dice che si ci sono state tutte queste incombenze cioè il cambiarsi stare dieci minuti in camera mangiare il cordon bleu e tutto quanto ma in realtà i tempi sono molto dilatati e Sara era sì già pronta perché smagnava dalla voglia di uscire come ci hanno detto anche i genitori ma esce appena riceve il messaggio di Sabrina e il messaggio di Sabrina arriva alle 14 e 25 e quindi secondo e quindi secondo la la difesa sarebbe arrivata a casa alle 14 e 30 e quindi in nove minuti non ci sarebbe stato il tempo di inventarsi l'omicidio cioè di farlo di litigare fare l'omicidio e poi crearsi l'alibi perché secondo l'accusa i messaggi in realtà sarebbero un alibi cioè sarebbe una serie di messaggi che dopo aver ucciso Sara e con i genitori o il padre che sta nascondendo il corpo per poi portarlo in campagna adesso rega poi ti rispondo Sabrina avrebbe preso il cellulare di Sara e si sarebbe scambiata dei messaggi quindi avrebbe mandato dei messaggi e poi si sarebbe fatta da sola allo squillo per crearsi un alibi ora questo è quello che dice il che sarebbe io ho dei dubbi su questa cosa non tanto perché sia inverosimile anzi assolutamente inverosimile che una persona possa farlo ma che una ragazza di 22 anni come Sabrina che voglio dire non è un fulmine di guerra proprio no a livello mentale non è proprio no una che dici cazzo questa è su pezzo che compie un omicidio così atroce e che con la famiglia probabilmente poi magari è stata un'idea della famiglia però con la famiglia riesca a mettere insieme un impianto di dissuasione così strutturato a me rimangono dei dubbi però adesso vi spiego una cosa che mi è piaciuta poco dell'accusa all'inizio i genitori di Sara e anche la stessa badante parlano di altri orari parlano di un orario completamente diverso cioè vi spiego Sabrina quando alle 14.44 fa la seconda chiamata e si accorge che Sara non risponde decide di andare a casa dei come si dice dei degli zii si fiorna a casa degli zii e all'inizio parla soltanto col padre e gli dice Sara è scomparsa Sara è scomparsa e il padre all'inizio dice no io non mi ero preoccupato perché Sara era uscita adesso che è stato tradotto tra virgolette anche perché il padre di Sara non ha esattamente un eloquio particolarmente chiaro cioè se avete visto un giorno un'imperatura non si capisce un cazzo quando parla quindi in una traduzione dal suo personale idioma a un italiano semicomprensibile è siamo appena uscita Sara è appena uscita e quindi lui non si era preoccupato questa cosa aveva fatto immaginare agli inquirenti che quindi Sara in modo coerente con questo racconto potesse essere effettivamente uscita dopo il messaggio quindi dopo le 14.25 dopo successivamente anche la madre vi ho detto che aveva parlato del 1.20 come rientro del del marito e della figlia successivamente dopo lunghissimi incontri con i con i PM cambiano completamente gli orari e gli orari vengono anticipati tutti quanti ma anche quella dei vari testimoni ma vi ripeto i testimoni poi ne parliamo settimana prossima ma c'è un testimone che cambia davvero di un'ora dopo 8 mesi cambia quasi di un'ora la sua come si dice la sua deposizione così come c'è un testimone che dice di aver visto Sara alle 2 passare ad andare verso la appunto verso la casa dei missieri che a quel punto toglierebbe tutti i dubbi ma in realtà lui dà una descrizione di Sara vestita completamente di rosa quindi evidentemente si è confuso con l'orario perché questa deposizione viene data mesi dopo e quindi non l'aveva vista alle 2 ma l'aveva vista probabilmente a mezzogiorno ok quando Sara era vestita effettivamente di nero e non di rosa quindi ci sono tutta una serie di problemi sulle deposizioni sugli orari vi dico siccome mancano 10 minuti questa è stata una puntata abbastanza frenetica adesso non ho ancora bevuto se poi mi dite che poi non bevo scusate bevo un attimo altro piccolo inciso stamattina ho riascoltato i 10 minuti della seconda puntata su questo caso e dicevo io che bevo in continuazione mi ha fatto venire una sete pazzesca quindi questo podcast oltre che intrattenervi mi ricorda di bere che quindi fa bene anche la vostra salute intanto fatemi domande perché non vedo pochissimi commenti oggi rispetto al solito quindi fatemi domande ditemi cosa ne pensate tutti perché ho bisogno anche di voi visto che io ho poi quasi finito le cose che volevo dire oggi detto questo non mi credo cosa stavo dicendo no allora quindi gli orari che danno i genitori nelle varie deposizioni cambiano molto perché in realtà all'inizio i genitori sono concordi sull'uscita di Sara abbondantemente dopo le due un quarto però la madre di Sara dà una spiegazione che a me convince parecchio per questo suo cambio di come si dice di idea diciamo così cioè lei dice la madre di Sara all'inizio noi abbiamo dato un abbiamo sbagliato gli orari perché chiaramente non abbiamo guardato l'ora quando è uscita e tutte queste cose ma ci siamo fidati degli orari di Sabrina cioè di quando Sabrina è arrivata degli sms di tutto quindi quando Sabrina ci ha fatto vedere l'sms alle 14.25 abbiamo dato per scontato che fosse uscita dopo no quindi dopo le 14.25 mentre poi una volta messi di fronte all'evidenza alle altre evidenze perché il messaggio c'era ma appunto ad altri riscontri cambiano idea e questa mi sembra una cosa abbastanza coerente ma così rispondo anche alla domanda di Elga la più coerente di tutte mi sembra appunto la badante che secondo me è effettivamente il personaggio fondamentale di questa ricostruzione cioè la badante parla sempre di un intervallo di circa 20 minuti cioè in tutte le deposizioni che ho letto io della badante parla l'orario più tardo che dà sono le 2.5 adesso Lucrezia ti rispondo una volta dice massimo 2.5 però tutte le altre volte parla o 2 o 2-5 o 2-10 quindi lei si dà un quarto l'ora 20 minuti di intervallo e anche di fronte all'SMS di Sabrina dove Sabrina dice no io ho andato un'SMS alle 14.25 quindi sicuramente è uscita dopo la badante dice no secondo me è uscita prima quindi lei è quella che mantiene una coerenza più diciamo costante soprattutto ci sta che lei non stesse guardando l'orologio proprio nel momento in cui Sara è uscita quindi hai un'idea indicativa secondo me un intervallo di un quarto a 20 minuti è un'idea sufficientemente indicativa ma vagamente precisa di quando è uscita ma non è perfetta ma è proprio la badante secondo me che indirizza in modo inequivocabile come si può dire l'uscita di Sara tra le 2-5 e le 2 io non sono convinto come dice l'accusa e poi chiaramente vi spiegherò perché che sia uscita all'1.45 secondo me è troppo presto l'1.45 ma le 2-5 e le 2-10 2 e poi vi spiegherò appunto perché secondo me potrebbe essere uscita io sono convinto sia uscita intorno settimana prossima vi faccio poi un'altra semiricostruzione intorno all'1.52 1.53 perché poi passa dove verrà forse vista o sentita intorno all'1.55 questo però se fosse confermato sarebbe davvero la pietra tombale sulla possibile innocenza di Sabrina perché a quel punto se fosse davvero confermato e io non vedo perché la badante dovrebbe avere quale possa essere l'interesse della badante a mentire tutti i messaggi che Sabrina ha mandato a Sara e lo squillo di risposta sarebbero stati dei messaggi fittizi per crearsi un alibi cioè aveva mandato un sms a Sara ma aveva lei il cellulare di Sara perché Sara era già morta quando ok ha mandato quell sms quindi sarebbe stato un master plan fantastico di però davvero di una donna cioè che perché l'omicidio viene catalogato come un raptus però anche lì un po' alla franzoniano cioè finito il raptus con l'aiuto della famiglia e poi discuteremo ampiamente di quanto è stato ingente questo contributo familiare con l'aiuto della famiglia poi c'è viene creata una una serie di un alibi e una come si può dire una ricostruzione alternativa praticamente perfetta cioè vengono eliminate le tracce eliminate le prove fatto sparire il cadavere trovarsi cioè tutto in dieci minuti incredibile sì Sabrina aveva il cellulare di Sara perché Sara era stata già aggredita quindi aveva sul cellulare si manda due messaggi con tre minuti di delay quindi di ritardo tra l'altro anche lì che sangue freddo no? cioè di aspettare tre minuti mandare l'altro messaggio farsi lo squillo cioè c'è una pianificazione davvero dettagliata che io non sono così sicuro questa è una mia paura non sono così sicuro che possa essere venuto da Sabrina e basta magari c'è anche dentro sua madre Cosima questa è la convinzione chiaramente degli inquirenti ma due donne non sempliciotte però non sto dicendo sempliciotte però due donne che non avevano cioè di paese che non avevano sicuramente esperienza con omicidi e depistaggi fanno una roba del genere tanto di cappello ovviamente in senso in senso negativo cioè è una roba assolutamente incredibile però allo stesso tempo c'è il problema appunto che dice Pietro cioè però se è un rapto improvviso mi sembra un po' troppo tutto pianificato allora vi anticipo una cosa cioè vi anticipo che il mio problema non è tanto sui tempi quanto sulla ricostruzione cioè questo problema dei tempi anche se noi ammettiamo che sarà arrivata a casa dei misteri alle due non alle due e mezza come dice Sabrina in realtà la ricostruzione non è comunque chiara perché comunque ci sono due se non tre se non quattro invenzioni degli inquirenti invenzioni nel senso delle ipotesi secondo me molto dei long shot dicono sempre in inglese cioè delle idee che hanno quasi niente di base come il famoso litigio che ha portato Sara a scappare di casa per poi essere acciuffata che è assolutamente basato sul nulla e quindi la ricostruzione anche se Sara arriva alle due non rende secondo me così tanto più chiara la cosa ok cioè non come posso dirlo il fatto che lei arrivi alle due non rende automaticamente innocente Michele e colpevole Sabrina e così probabilmente la cosa che rende automatica è che Sabrina è a conoscenza del delitto perché se arriva alle due ovviamente alle due venticinque e alle due ventotto i due messaggi che manda sono due messaggi per Cassio un alibi quindi rende Sabrina assolutamente cosciente che è avvenuta l'aggressione e l'omicidio ma non necessariamente la rende colpevole ok cioè colpevole dell'omicidio sì del depistaggio ma non dell'omicidio perché come vedremo poi la settimana prossima ci sono dei problemi di ricostruzione di tempistiche secondo me che non combaciano nel senso che ci sono tutta una serie cioè ci sono dei tempi serratissimi dove dovrebbero avvenire tutta una serie di fatti che sono anche in contrasto a livello sempre di cui abbiamo parlato a lungo con la Franzoni cioè di sfera di irrazionalità più pura che poi si mette dentro la sfera razionale cioè raptus improvviso dei due g donne che strangolano uccidono la nipotina e l'attimo dopo sono lì a complottare in maniera assolutamente lucida facciamo passare la ragazzina da dentro così non vedono ma andiamo gli sms così ci creiamo cioè c'è tutta una serie di problemi va bene manca un minuto in tutto ciò oggi è puntata che mi è sembrata assolutamente volare è Francesca rispondo rispondo più avanti se sono se hai un po' capito se sono perché Francesca mi chiede se sono innocentista o colpevolista io sono sicuro che lei abbia avuto un ruolo cioè che non ci credo che non sapesse niente non poi vi dirò se però non da lì a dire che è stata lei aspetterai un attimo a dirvelo ve lo dirò settimana prossima ragazzi è finita la puntata ci sono già 20 anzi mancano 25 secondi spero che la puntata vi sia piaciuta io mi sono divertito un sacco e fatemi sapere sul canale telegram cosa ne pensate di questa puntata e discutetene il più possibile mancano 10 secondi vi do appuntamento a venerdì prossimo se tutto va bene il weekend prossimo saranno 3 puntate vi auguro una buona settimana una buona domenica ciao a tutti e grazie e grazie a tutti